Radio Ucifocus Per chilometro ed è così ripartito Per emissioni comprese tra i 0 e i 60 grammi L'incentivo è di 2.000 euro 61-90 grammi 1.000 euro 91-160 grammi 750 euro Dal prossimo lunedì mattina sarà possibile prenotare Sulla piattaforma del Mise i vari bonus Che resteranno a disposizione degli acquirenti Fino al 31 dicembre 2021 E questa quindi la nuova data di scadenza Fissata dalla legge di conversione Vale la pena frettarsi però Perché le risorse sono disponibili Fino a fine anno A patto però che non vadano prima Esaurite dalla redazione Tutto al prossimo aggiornamento